E' scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati, mezzogiorno e venti e qualsiasi sia il tempo che abbiamo fuori della finestra, oggi c'è il sole, un sole che brilla, è il sole di una persona bella, prima di tutto, di una persona molto bella, molto bella fuori ma molto bella anche e soprattutto dentro, una giornalista bravissima, una conduttrice televisiva e radiofonica, 10 e lode, scrittrice, brava, brava, veramente brava assai, bella, bionda, ha tagliato i capelli da poco e sta veramente bene, con un sorriso dolcissimo, quindi il sole splende perché finalmente è arrivata in studio Francesca Fialdini! Ciao! E non sai che regalo! Non sai che regalo! Ma grazie a te dell'invito! Brava, 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 brava la mia Francesca! Che bella presentazione! Però sono tutte cose che potessero entrare nella tua carta d'identità, non sarebbe... Tu le metteresti? Sì! E le metteresti anche per te? Oh, quella è un'altra storia! Allora io scrivo la tua carta d'identità! Va bene, questa è grazia da parte tua! Però non stonerebbe niente delle cose che ho detto! Bella, papà e mamma, ottimo lavoro, ma bella dentro anche! E quello forse Francesca è un po' più, dico complicato, però quello è un bel risultato quando lo si ottiene, no? Sai Paola, chi può dirsi bello dentro? Cioè è un lavoro rendersi migliori, essere persone che lavorano con le proprie ombre, le proprie paure, le proprie difficoltà, le proprie fragilità per farle brillare e se impara qualcosa da quelle fragilità, le mette a disposizione degli altri. Credo che sia una lezione di vita valida per tutti, voglio dire. In questo senso forse accetto il complimento. Attenzione, siamo solo all'inizio, ha accettato il complimento. Sentite, oggi sarà una puntata particolarmente bella. Io voglio subito presentare, edito da Rai Libri, quest'ultima fatica di Francesca Fialdini con il professor Leonardo Mendolicchio, ora racconteremo tutto. Nella tana del coniglio, esattamente quello come Alice nel Paese delle Meraviglie che segue il bianconiglio, quando la lotta con il cibo diventa un'ossessione. Entriamo tra poco all'interno di questo tuo libro. Il 15 marzo si celebra la giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, ovvero la giornata del fiocchetto lilla. Allora, una pagina, in realtà è un libro intero, ma una pagina che tu hai affrontato e continui ad affrontare, l'hai fatto televisivamente e continui sempre, per amore delle persone che si sono trovate all'interno di questo cattivo rapporto con il cibo, Francesca. Nella tana del coniglio, perché? Nella tana del coniglio è un'espressione che ha usato Marta, che è la prima storia che si incontra leggendolo. Marta è una ragazza di 16 anni, mentre iniziava a raccontarmi la sua storia e per entrare dentro l'intimità di una persona devi andare anche gradualmente, devi conquistarti la sua fiducia piano piano, parlando come se fosse un gioco l'inizio della sua dieta, e a volte capita così, mi ha detto che ero caduta nella rabbit hole e non me ne ero accorta. Che cos'è la rabbit hole? Era la tana del coniglio. Sono caduta nella tana del coniglio, stavo rincorrendo al mio ideale di bellezza, di magrezza, volevo piacere agli altri, ai miei compagni, volevo tornare a sentirmi sicura di me stessa, ma ormai ero caduta dentro un buco nero e avevo soltanto bisogno di qualcuno che mi aiutasse a uscirne fuori. Da lì il titolo del libro. Questo libro, bellissimo, è l'incontro con sei ragazzi che soffrono di disturbi alimentari. Io voglio citare, perché è giusto farlo e perché sì, un programma indispensabile che è Fame d'amore. Questo tuo programma è l'ultima serie del 2023, tu hai, seguendo un gruppo di ragazzi con queste problematiche che vanno dall'anoressia alla bulimia, al mangiare troppo, al non mangiare, tu hai portato questo tema con la tua grazia, attenzione e col tuo spirito materno nei confronti dei tuoi intervistati e dei tuoi incontri, questo problema a far sì che altre persone che magari avevano paura di parlarne, dicessero, ok ci sono anch'io. Questo è il senso Francesca, anche questo è il senso del tuo lavoro. Assolutamente sì, c'era bisogno di iniziare a parlare di una cosa scomoda, facendo anche sentire scomodi nei loro panni coloro che ci stavano guardando e ascoltando, fossero nella posizione di genitori, di educatori, di docenti oppure i ragazzi stessi o comunque gli adulti che probabilmente da tanto tempo erano dentro la tana del coniglio ma non sapevano né di esserci dentro né come fare uscirne fuori né come chiedere aiuto. Fame d'amore nasce per creare consapevolezza, denunciare le sorture anche delle relazioni d'amore, familiari, il nostro modo di parlare, di rivolgerci gli uni gli altri, perché le parole in questo mestiere più che mai veniamo a contatto ogni giorno con il valore e il peso che hanno, alle volte invece nelle nostre case vengono pronunciate con sufficienza. Ti ricorderai negli anni 90, Paola, quella pubblicità che diceva non mangia vuole fare la modella, ci è entrata nella testa, è diventato un modo di esprimerci e tante volte a tavola succedeva che se un ragazzo o una ragazza cominciasse a non mangiare più, ti dicesse con sufficienza non mangia, vuole fare la modella, chissà cosa si è messa in testa e no, dobbiamo imparare a riconoscere i sintomi. I sintomi sono capire che dietro tutto questo ci sia per l'appunto una fame d'amore, una ricerca, anche una volontà di essere collocati in un punto della società, anche della propria, la società è anche la famiglia, la nostra piccola società, piccola immensa nella quale noi viviamo. Ecco, tu continui ad inseguire indefessamente e instancabilmente queste storie perché queste storie siano liberazione per altri? Esatto, sì, che possano essere strumento di comprensione, anche di liberazione nel migliore dei casi, ma siamo strumenti naturalmente, poi il lavoro lo devono fare coloro che ci sono dentro. Questo non c'è dubbio Francesca. Però al tempo stesso riteniamo anche da un punto di vista giornalistico sia ormai un tema fortunatamente sdoganato, ma sul quale c'è da fare tanto lavoro e grande chiarezza, perché i numeri purtroppo, l'attualità ce lo dice, sono incredibili, sono quasi 4 milioni, le persone ammalate di disturbi alimentari. Sono tanti, 4 milioni sono tante persone. E sono morti 4 mila ragazzi nell'ultimo anno, tutti sotto i 30 anni, cioè è un dato d'emergenza, è la seconda causa di morte fra i ragazzi, cioè è un tema serissimo che dobbiamo prendere seriamente. Naturalmente non possiamo fare noi la parte del sistema sanitario, dobbiamo lottare perché i servizi vengano offerti, ma certamente possiamo iniziare da noi in famiglia a cambiare le cose che forse non vanno. Allora, corpo, immagine, peso, bellezza, felicità, ansia, depressione, panico, eccetera, 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 in questa tana del coniglio dalla quale Alice deve uscire nel paese delle meraviglie, dalla quale questa meraviglia che è Francesca Fialdini, lo dico di cuore, guardate, perché poi ci si vede, ci si trova, l'ultima volta ci siamo visti al concerto di Claudio Baglioni e non si ha mai il tempo di dire, sai che c'è, ragazza, ti voglio bene, sono felice che tu sia qui, ci vediamo tra un attimo all'ora solare, molto semplice, molto, a tra poco. Francesca, Francesca Fialdini, applausi. Allora, eccola qua. Grazie, Paola. Come facciamo dire io? Quella vera, quella vera. D'altronde non ci sono imitazioni, è nel caso di fidate. Allora, uno mattina, sua immagine, la vita in diretta, lo zecchino d'oro, tanta tantissima radio, mamma mia, ne abbiamo, ne dobbiamo soltanto aggiungerli, da piccolina, perché ella due giorni fa era piccola, e lei sognava di diventare una reporter. No, vabbè, no, abbiamo le prove. Due giorni fa era così, eccola qua, eccola, con tutti i dentini, proprio già zetti belli sistemati. Era tanto un imbarazzo quel giorno, io me lo ricordo quel giorno lì, quando mi hanno fatto quelle foto, perché mi hanno messo il vestito della festa. Ci vede. Il vestito la marinara, erano tutti orgogliosissimi di vestirmi col vestito della festa e mi hanno portato nello studio in un fotografo. Tu dici perché? Da allora, da allora, io mi intimidisco tantissimo quando mi devono fotografare. Io gli shooting, se potessi non li farei, eppure per lavoro dobbiamo fare. Li devi fare, certo. E proprio per vincere l'imbarazzo ho cominciato a giocare da sola. Guardate, meravigliosa. A me si è messa letteralmente le mani in testa e da lì è partito tutto. Allora, lei voleva essere reporter internazionale. Ci siamo, però siamo vicini. Poi pare che passi anche dalla passione per il violino. La piccola Francesca, dovremmo avere anche delle prove fotografiche. La passione nel senso che ho patito. Beh, vabbè, però diciamola tutta. Il violino all'inizio è, dicono, come tirare la coda a un gatto, no? Confermo. Confermo. Un disastro assoluto. Un disastro, però qui sembri seria. Ero impegnata, perché mia mamma ci teneva che io imparasse a suonare il violino. E allora lì stavo eseguendo un indimenticabile happy birthday. Wow. Dopodiché ho dismesso i panni della violinista. Va bene, il violino l'ha lasciato da parte, però dopo una brillantissima laurea, ella va in Radio Vaticana. Dico, bene? E quindi la radio, la radio. Un mondo straordinario. Un mondo a parte. E persone straordinarie. Che non solo mi hanno accolto, ma mi hanno dato tutti gli strumenti che mi servivano per sbrigarmi a imparare presto qualcosa che potesse rimanermi per sempre, come un bagaglio culturale. Non finirò mai di ringraziarli. Sono ancora in contatto con tutti loro e sono nel mio cuore. Ma sono stati dei maestri, davvero. Anche perché la radio insegna a parlare radiofonicamente parlando, veloce. Con sintesi, precisione. Quindi dovrei fare molta radio, ma insomma, quando poi si applica la parola ad altro, ti rimane quel segno, no? Senza altro. Il segno della radio rimane. Allora, tutta la tua carriera, tutti i tuoi programmi. Diciamo sempre, guarda qua, sei meravigliosa, qui sei nel gruppone di A Sua Immagine. Devo dire, stupenda con i capelli così, ma con il capellino corto, però guadagni mille per mille. Ma infatti. Stai gran bene. Diciamolo. Diciamolo. Di tutto il tuo lavoro, c'è un programma al quale sei più legata, più... Allora... Più innamorata, più... Caspita, quella è stata proprio la mia pietra d'angolo. Da lì ho iniziato a costruire tutto. Probabilmente uno mattina, perché ha richiesto un grandissimo impegno. Intanto mi metteva a contatto con le cose che davvero volevo fare. E quindi, avendo iniziato come redattrice degli esteri e corrispondente per gli esteri, a uno mattina, in quel frangente in cui l'ho fatto io insieme a Franco Di Mare, che mi ha insegnato tanto, ho avuto modo di continuare su quella strada. È una grande scuola. Sì, devo dire che forse quei tre anni mi hanno dato una forma. Una forma? E che forma? Una forma di credibilità e di grazia. Che il fatto che vadano di pari passo e attenzione, di forza, perché la ragazza è molto, molto, molto forte. Allora, passo su quello, il nostro lavoro, in particolare il nostro lavoro quando è gestito in diretta, ci mette di fronte anche a situazioni le più strane. L'abbiamo sentito nei giorni scorsi, lui si è ampiamente scusato, Massimo Ceccherini, che di suo è già Massimo Ceccherini. E si è scusato, giustamente, per aver detto una frase che è suonata fuori luogo. Ecco, in quei casi, Francesca, bisogna saper gestire, girare, aggirare. Stavamo parlando di cinema e quindi ho semplicemente citato il film a cui lui faceva riferimento, dando il titolo a casa e evidenziando anche che fosse un lavoro magnifico, ben fatto e che nel caso avrebbe meritato. Quindi non ho capito proprio il cortocircuito esterno, ma ci dice tanto del clima di questo momento. In una ruota libera, sicuramente una cosa a cui facciamo sempre tanta attenzione, ed è per questo che non rinuncio alle storie di gente comune, è il rispetto, l'apertura a tutti, non essere mai discriminanti nei confronti di nessuno, né cultura, né etnia, tantomeno religione. Siamo aperti anche, anzi, a storie di grande spiritualità, perché quando gira la ruota nella vita di qualcuno, molto spesso è perché c'è stato un grande lavoro interiore. E senz'altro, anzi, l'apertura che abbiamo avuto, alle volte mi è stata persino quasi rimproverata. Quindi ti devo dire che è stata una doccia fredda, una sorpresa, però, ecco, Massimo ha detto con quelle scuse qualcosa di profondamente vero e sincero, perché è una brava persona. Dopodiché stava lì perché stava per vincere un Oscar, forse, e quindi doveva metterci anche tutta l'emozione, la tensione, l'agitazione, l'attesa, tutto quello che stava vivendo. E d'altronde lavorare in diretta, lavorare, fare questo lavoro dialogando con le persone, sapendo sempre di, alla fine di dialogare anche con una telecamera, quindi di portare tutto questo in onda, comporta anche queste condizioni e queste situazioni. Quando tu sei arrivata alla tua prima diretta, Francesca, c'è sempre l'istante in cui si ricorda la primissima diretta della propria vita. Non voglio entrare nella diretta radiofonica, voglio entrare nella diretta... Ma è dimenticabile, guarda. ...televisiva. Come andò? Ho tremato dall'inizio alla fine, mi tremava la moce, mi tremavano le gambe, mi tremava il bifo. Questo tirendo umano ti do questa notizia, ecco. È un tremolio, credo sia andato in onda, era un collegamento d'acqua pendente di fronte a una chiesa, perché era un collegamento per la sua immagine. Io ero del tutto impreparata anche ad andare in televisione, perché uscivo dalla radio, non sono passata dal parrucchiere, non ho fatto niente, perché io non pensavo mai di essere presa. Davvero, Paola, è andata così, ma nel giro di 15 giorni mi sono trovata a sperimentare un altro campo. Credo sì, l'emozione mi ha completamente coinvolta, però è un ricordo tenere. È andata bene, dai. È un ricordo tenere. È andata bene, è meravigliosa, perché lei, lo posso dire questa cosa, è arrivata e ha detto io oggi volevo mettermi tutta bellina, basta che esca da casa. E dice però stamattina i jeans si sono bagnati e poi quello è, e non avevo niente di stirato. È una tenerezza sentirla parlare così, perché è una ragazza che, come dire, è una ragazza alla quale si può veramente voler bene. Allora, la mamma oltre che violinista la voleva biologa. Sì. Il tuo papà è la persona dalla quale forse hai ereditato la tua vena artistica, possiamo dire così? Forse sì. Forse sì. Nel senso che tu sai cantare molto bene? Sai ballare? Sai... No, mi stai sopravvalutando assolutamente. Assolutamente. Questo intanto è mamma e qui, come dire, fotografia con la mamma che è sempre un bel vedere. E dicevamo la vena artistica? Ma mio padre è un tipo molto socievole, ama la festa, lo chiamano il principe del futile. E ho detto tutto. E quindi in questo suo modo di fare coinvolge sempre tutti. Il principe del futile! Io vado a massa, vado con mio padre a cena fuori, a parlare, a bere, a cantare, a far festa. Sempre. È meraviglioso. Allora, prima della diretta, mi dice qualcuno, tu ami Piadina e Cioccolatini, ma non Piadina e Cioccolatini insieme, insomma. Ho la Piadina, volendo anche, insomma, volendo anche, eccola qua, guardate che bella, con Marco Lioni, con l'avventura della vita in diretta, insomma, questa è Francesca. Francesca, allora, non mi sentirete mai chiederle notizie della sua vita privata, perché parto sempre dal presupposto che sulla porta dove vedete scritto privato, ecco, quella porta non si apra, siccome lo considero ottimo per me, lo considero ottimo per tutti. I miei ospiti e per tutte le persone che incontro. Una domanda però te la faccio, prima di andare a quel capodanno ad Assisi del 2000. Il successo, perché tu sei una donna di successo, ti ha cambiata? Non è una parola che mi appartiene. Non è una parola che mi appartiene. Io lavoro perché mi piace il mio lavoro. Se il mio lavoro riesce ad arrivare agli altri e gli dà modo di conoscere altre cose, bene. altrimenti lavoro per me, perché mi piace, mi fa sentire realizzata, per le cose che mi appagano, anche per i temi che scelgo, che non sono affatto popolari o per tutti. Quindi non so che cosa stai dicendo. Se qualcuno mi avesse chiesto, ma vuoi mettere un penny su questa risposta perché non si scommette mai su nulla, io avrei messo quel penny sicura di non perderlo con Francesca Fierdini. Allora, per un capodanno, ed era l'anno 2000, quando sembrava che chissà cosa dovesse accadere, infatti ne sono accadute tante, ma questa è la storia dell'uomo, avevo in programma di andare in discoteca, dice lei, finché un amico mi chiama, e sapete, Assisi è quel cuore del mondo. Io dico sempre, Francesca, la mia macchina ci va da sola, se io esco e dico portami ad Assisi, quella mi porta ad Assisi, ci va da sola. E quindi tu passi questo capodanno, che comunque sia il capodanno che scavalla il millennio, insomma, fa entrare in quella cifra a tutti i due, a tutti i zero, anzi, scusami, ad Assisi. E da lì che cosa è scattato? Si rovescia la piramide, mi spiego. Incresciamo con dei valori che ci arrivano perché ce li passano i nostri familiari, perché ci educano a uno stile di vita, o perché la società ci chiede di essere perfetti, performanti, appunto, di successo, intendendolo come realizzazione economica, come realizzazione professionale, top manager, villona, macchina di ultimo modello, eccetera, e di fare un lavoro che non preveda necessariamente un codice etico. Ok, questo è il modo in cui negli anni 90 e anche 2000, sicuramente negli anni anche del consumismo sfrenato, dove tutto sembrava possibile, la mia generazione è cresciuta. Dopodiché, appunto, volevo andare in discoteca, divertirmi con i miei amici, ma uno in particolare, un caro amico del liceo, che mi conosceva molto bene, insiste nel dirmi no, vieni ad Assisi con me, e io dico ma che cosa ci devo venire a fare io ad Assisi con te, a Capodanno? Ma di che parli? Ma che senso ha? Ma perché tu a me dici questa cosa? Ma mi conosci? Appunto, proprio perché ti conosco, ti dico vieni. Ha insistito così tanto fino al 29 sera, quindi quello che doveva iniziare ad Assisi era già iniziato, che era un campo per giovani, giovani verso Assisi, dai frati del Sacro Confento, e lui invece continua a telefonarmi, al che io, sai che cosa faccio? Vado a casa. La mia madre, già era a letto, era mezzanotte passata, mi sdraio, chiudo gli occhi e dico, cerchiamo di capirci, che cosa devo andare a fare io ad Assisi? Chiudo gli occhi e mi vedo ballare vestita di bianco in una sala grande, sperimentando un senso di libertà. Ok, Francesca, adesso prova a pensare a come ti sentiresti se tu ti ritrovassi nella stessa situazione di sempre, in discoteca, fare tardi, magari tornare al mattino alle 6 e dormire tutto il giorno, come ti sentiresti? Beh no, voglio sperimentare la prima sensazione, quindi vado in camera da mamma, la sveglio e le dico domattina alle 6 prendo il treno, vado ad Assisi. Che cosa vai a fare? Come? Dove? Lei poverina dormiva. Bene, io alle 6 ero sul treno. E ho ballato in una sala, grande, vestita di bianco, insieme a tanti altri giovani. E quel senso di libertà l'ho provato davvero. Tornando alle mie attività quotidiane, ai miei studi a Roma, alla mia vita da studentessa universitaria, ho cominciato a rivalutare la mia scala di valori. E ciò che prima era in cima, adesso era in fondo. La piramide si è rovesciata. Brava Francesca. Brava. Assisi fa quest'effetto sulle persone che sono pronte ad andare ad Assisi. Si fanno chiamare. C'è sempre un motivo per cui ti chiameranno ad Assisi. Raramente ci andrai di tuo la prima volta. E' arrivata una cartolina. Non da Assisi, eh. E' arrivata una cartolina per la Fialdini. E noi, contenti. Gliela... E fammela dire bene. Fammela dire bene. Noi, contenti, gliela presentiamo così. Ciao, sorpresa. Ciao Paola. Un bacio a te e uno speciale anche alla tua ospite. Ciao Francesca. Ciao. In bocca al lupo per questa tua avventura, per questo tuo libro. Sei speciale, sei brava, sei intelligente, sei dolce, sei bella. Insomma, tutte le caratteristiche sono al loro posto. E poi, sai che io ti sono tanto riconoscente e ti ammiro tantissimo, oltre che a volerti un gran bene. Ed è per questo che sono qui a mandarti un saluto, seppur a distanza, e a dirti che facciamo tutti il tifo per te. Ciao Franci. Ciao Paola. Ciao a tutti voi. Ciao Neck. Grazie, grazie. Grazie a Neck, persona adorabile. Ecco, grazie. Che bella sorpresa. Questa è tutta colpa della Bernardini, che è qui, che aspetta e che ascolta. E insomma, ti vogliono bene le persone che hai accanto. Ci scegliamo la famiglia che vogliamo portarci appresso per tutta la vita. E quindi, una volta che scegliamo, dobbiamo farlo bene. Sottoscrivo. La famiglia, la famiglia degli amici è quella cosa che protegge il nostro cuore. Custodisce, ci custodisce. È proprio una cosa che ci protegge così. E quindi Neck ci ha fatto questo regalo. Allora, prima di salutarci... A Filippo ha un grande cuore. Sai che Filippo mi ha sostituito durante il Covid. E Filippo si è messo totalmente a disposizione, saltando dal palco del cantante internazionale, qual è? A quello di A Ruota Libera, mettendosi nei panni del conduttore, che fino ad allora non aveva mai fatto, quindi è stato estremamente generoso. Eh ma questo è stato uno... Si chiamano vasi comunicanti, mia cara. Cioè, quando tutto è allo stesso livello, perché le persone... Guardate, voi dite, ma se volete dirvi tutte queste cose, incontratevi da sole. No, noi queste cose le diciamo pubblicamente, perché quando ci si trova di fronte a persone belle, è bene che queste persone vengano raccontate ancora una volta e ancora di più laddove ce ne fosse bisogno. E noi, allora Solaria TV2Vina, volevamo sentire questo bisogno al grande pubblico. Dunque, non perdete questo libro, Nella Tana del Coniglio. Voi dite, ma io non conosco storie di persone o di ragazzi che abbiano attraversato, stiamo attraversando disturbi alimentari. Compratelo e leggetelo. È esattamente per questo che lo dobbiamo leggere. Quando non siamo vicini a questo problema, è lì che dobbiamo capire. E Francesca ci insegna come fare. Ah, ma una cosa non l'ho detta di Francesca Fialdini. Mi sta benissimo questa foto in bianco-nero, perché lei, nonostante sia recita di Giallo oggi, lei ha questa fede, juventina. Adesso metà pubblico, spegnerà Canale. Non è vero, non è vero, no, perché tu... Ma ribadisco la mia fede di Juventino ugualmente. Ugualmente, ovunque sei. Fialdini, eccola qua, questa campionessa. C'è il nostro Stefano Sbazzo, il nostro direttore di studio. Sta esultando proprio come un curva. Allora, campionissima, Juventina Purosangue, amica del cuore di tutti i tuoi spettatori, Purosangue. Anche in questo, grazie Francesca. Grazie Paola, grazie di essere stata con me. Francesca Fialdini, grazie, un grandissimo regalo, tesoro. E l'avevo promesso che non saremmo andati di bellezza in bellezza. Guardate queste immagini. Alla fine è successo. Ringrazio Daniele Cipriani ancora una volta. Il re del flamenco, un uomo straordinario, un artista sublime, uno ce n'è al mondo. È qui, all'ora solare, Sergio Bernal. Ben arrivato. Grazie, Sergio. Grazie, 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 grazie. Grazie a te. Mi spellerò le mani. Allora, già primo ballerino del balletto nazionale di Spagna, star internazionale del balletto classico e del balletto spagnolo. Lui ha le chiavi di New York, Mosca, Dubai, il resto del mondo, cioè tutto il mondo. Tu sei il re del flamenco in tutto il mondo. E poi parliamo anche di tutta l'altra danza. Che effetto fa sentire questa corona sulla testa? Ti fa piacere, assolutamente, perché alla fine sono lavorando per arrivare a un posto dove posso prendere il cuore della gente, dove posso parlare con la gente, con il pubblico che arriva al teatro. Anche c'è la responsabilità, assolutamente, perché alla fine quando vai al palcoscenico e devi ballare e devi fare della magia, non sempre è facile. E quella è la responsabilità. È una responsabilità. Le sue tournée hanno, ovviamente, e continuano a spopolare in tutta Italia, vi daremo poi una serie di appuntamenti, uno più importante dell'altro. Gli è stato assegnato il premio Danza e Danza come miglior ballerino dell'anno 2023, un premio importantissimo, un premio che riconosce il tuo talento smisurato, perfetto, sul palco. Però, lo dicevamo prima, ci sono i danzatori, ci sono gli artisti. Assolutamente. Tu sei riuscito a mettere insieme, a fare questa treccia, a intrecciare tutto questo nel corso della tua giovanissima vita in maniera perfetta, Sergio. Come? Non lo so, magari per la vita che ho avuto o che ho vissuto, ma credo che alla fine quando tu sei un ballerino, quando tu sei un artista, tu sei prima persona. Tu sei prima una persona, una persona che vive, che ha degli amici, che ha della famiglia, che ha del dolore, della passione, dell'amore, dell'allegria. È tutto quello che ti fa essere artista, perché quando arrivi al palcoscenico devi parlare di quello, di tutta quella esperienza che hai avuto nella tua vita. E quello è l'importante. L'esperienza, quanto è bello pure quando parla, ma che ve lo dico a fare. Allora, danza classica, flamenco ovviamente, la danza, Sergio Bernal è la danza, noi dobbiamo ringraziare la sua mamma. Perché uno dice, alla fine sempre lì andiamo, le mamme, la signora Maria, alla quale mandiamo baci e fiori, come se li potessimo far arrivare. La tua mamma notiziona, cioè tu sei un fratello gemello. Gemello, giusto. Hai il tuo fratellino Pablo. Assolutamente. Allora, eravate proprio piccoli. Incredibile. La bellezza c'è, è proprio di famiglia, è proprio così. Fotografia meravigliosa in cucina. Aveva un'orecchiette bella. Per ascoltare la musica. Per ascoltare la musica, le orecchie, vuoi che faccia vedere Dumbo? No, allora, quattro anni e la mamma vi porta a scuola di danza. Sì. Perché? La verità non lo so, non lo so. Lei dice che voleva prendere un po' di tempo per lei, perché eravamo due, anche un altro maggiore, più grande, Raúl. E lei ha avuto questa idea di portarvi a questa associazione, digamos, di la danza, che aveva in nostro parco. E siamo andati, Pablo e io, Pablo dopo una settimana ha detto basta, devo fare un'altra cosa, devo fare il cacciatore. E a me mi ha fatto veramente descubrire qualcosa di importante nella mia vita. Era la mia forma di parlare, la mia forma di comunicarmi con il pubblico. E quello l'ho visto subito dopo di arrivare alla danza. Quindi dall'età di quattro anni. Alle quattro anni, giusto. Questo si chiama qualcosa che ti chiama, no? È una voce che dice, resta qui. Assolutamente. Che meraviglia. Allora, a dodici anni viene ammesso al Real Conservatorio di Madrid. E ce credo, aggiungo io, alla romana. Il flamenco, stabilito che tu sei danza. Tu sei tutta la danza. Noi parleremo tra poco di l'esetuale, di un grandissimo appuntamento annuale, che si ripete per nostra fortuna ogni anno. Bellissimo appuntamento. E tu, straordinario appuntamento, tu sei danza. Però il flamenco è quel qualcosa che ti rappresenta perfettamente. È parlare, come dici tu, con le mani e far ascoltare la tua voce con il resto del corpo. Sì. Che cos'è che questa danza porta a noi, che non siamo spagnoli, che non sappiamo ballarlo? Che cos'è che traduce, che trasmette al pubblico? L'emozione. Il flamenco non cerca di fare un virtuosismo come si. Credo che adesso cerchiamo di trovare il migliore virtuosismo, fare 15 piruette nella danza, nel balletto classico soprattutto, di fare più grandi il salto. No. E credo che il flamenco cerca di fare l'emozione, di parlare dell'amore, del dolore, di tutta questa emozione che abbiamo tutti dentro di noi. E quello credo che è la bellezza del flamenco e per quello a Giappone, all'Italia, agli Stati Uniti e in tutto il mondo si fa il flamenco. Perché quando tu arrivi al teatro per vedere un spettacolo di flamenco, tu puoi vedere l'emozione. E quello lo abbiamo tutti. E quella l'abbiamo tutti. Questo è Sergio Bernal. Ore, 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 ore di studio, Sergio. Tu studi con un matto. Tu lavori sul tuo corpo perfetto, ma tu lavori sulla tua anima. Tu non ti stanchi mai. No. Quando il pubblico... Dobbiamo fermarci? No. No, lo stiamo vedendo. Quando il pubblico si alza tutto in piedi per applaudirti, perché non c'è mai un applauso seduto con te. Ho verificato. Cioè c'è sempre... Non puoi dire signora si segala davanti, signore si abbassi. Siamo tutti in piedi per applaudirti. Ecco quell'onda che arriva alla fine. Arriba un momento bellissimo nella tua vita. Perché arrivare al palco scenico, prima di ascoltare l'applauso del pubblico, puoi ascoltare anche il silenzio. E il silenzio è quasi più importante che l'applauso. Perché alla fine di tutti i pezzi, tutti applaudono. Quella è la verità, no? Ma quando tu puoi ascoltare il silenzio della gente, quello è il podere. Il podere che hai nella tua mano per fare quello che tu vuoi. Prima di fare qualcosa, se io voglio guardare alla destra, tutti devono guardare a quella destra. E quello è il podere che ti dà il teatro, che ti dà il palco scenico. Signori, prima di grandi... Prima di grandi sorprese, prima di parlare dell'esetual, e prima di far arrivare una cartolina per Sergio Bernal, noi ci fermiamo soltanto un attimo. Voglio dire una frase che ho sentito la prima volta che ho visto Sergio Bernal per danzare. L'ha detta una persona seduta accanto a me. Quando lui entra, diventiamo tutti, nel silenzio, suoi sudditi. Perché lui è il re. Sergio Bernal. A tra poco, l'ora solare. Molte sorprese, molte, 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 tante, molte, molte. Grazie. 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 Signori, è successo per davvero. Sto ballando con Sergio Bernal. Quale donna è più fortunata di me a questo mondo? Tesoro mio, tesoro mio. Guardate, scusate, ci vuole un coraggio leonino. a mettersi accanto ad una stella così. È un piacere. Allora, abbiamo detto, mi ha insegnato una parola in spagnolo. Quale? Paracoces. Paracoces. Paracarro. Paracarro. Paracoces. Io paracoces. Lui, Sergio Bernal. No, 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 no. Tesoro mio, grazie, Sergio. Grazie a te. Allora, arriviamo. Signori, dopo tanta emozione, è arrivata una cartolina per Sergio Bernal sulla quale voglio spendere una parola. A proposito di generosità, di cuore, questa amica, forse l'amica più cara, anzi sicuramente l'amica più cara di Sergio Bernal ci ha fatto un gran regalo. Perché? Perché noi le vogliamo un gran bene. perché lei è veramente il sole e ha mandato una cartolina per il suo amico Sergio. Vediamo chi sarà. Ciao Paola. Un bacione. Ma un grande abbraccio al tuo ospite, a Sergio. Ciao grande Sergio. Ti aspetto domenica in quando vuoi. Mi casa e tu casa. Ciao, che chiaro muccio. Mara Benier, noi ti aspettiamo all'ora solare quando vuoi. Mara è un'amica, è la tua amica forse più cara in assoluto. Sì, assolutamente. Lei l'hai conosciuto due anni fa, qua, quando abbiamo fatto questo premio Belisario. E lei veramente è una persona incredibile, no? Che ha un podere, ha una forza, un'anima. Pazzesco, veramente. E sempre che la guardo sulla televisione, l'adoro. Mara è generosa. Veramente generosissima. Mara mette insieme al suo amico Sergio questa linea unica, questo modo di essere, la generosità. Allora, Daniele Cipriani. Numero uno per tutto ciò che sia organizzare, produrre danza in Italia e nel mondo, riporta a Roma, Sala Santa Cecilia, auditorio, un parco della musica Ennio Morricone di Roma, 15-17 marzo con il 16 in mezzo, l'Esetual. E quello è il momento in cui insieme a tantissimi, grandissimi artisti, tu regali grandissima danza a tutti noi. Veramente è un capolavoro lo che fa Daniele Cipriani perché fare questo spettacolo dove puoi vedere a tutti gli artisti che arrivano dall'Estato Unito, del New York City Ballet, dell'American Ballet, che arrivano dall'English National Ballet, che arrivano dall'Hamburgo Ballet. Veramente è una questione unica. È il mappamundo. È il mappamundo. Assolutamente. È una questione unica dove puoi vedere lo migliore della danza in questo momento. E questo lavoro è grossissimo, fa tantissimo lavoro. E devo dare grazie a te in questo caso perché venire qua alla televisione per parlare della danza, per parlare della bellezza, non è facile. Però è un dovere da parte della televisione. Lo so, lo so. Però veramente te ringrazio perché è importantissimo per noi. E questa gala che si farà al Parco della Musica di Roma, in New Morricone, sarà veramente un gala incredibile. Incredibile. Sarà un gala incredibile. Indimenticabile. Indimenticabile. Vedete che anche io sto cominciando a parlare. Indimenticabile. Perché guardate Sergio Bernal con Miriam Mendoza. Guardate questo minuto che abbiamo a disposizione per dirvi che cosa andrete a vedere. Grazie a tutti. La stessa musica con la quale danzavo poco fa. Danzavo con Sergio. Questo pezzo lo faremo al spettacolo che facciamo con il mio spettacolo, una notte con Sergio Bernal. che sarà il 23 di marzo a Firenze. Una notte con Sergio Bernal. E questo parla dell'ultimo incontro tra due persone che si amano, ma lui in un certo momento le dice scusami, ma io devo andare via. E questo è l'ultimo incontro. È bellissimo. L'abbiamo fatto due anni fa alle Settuals. Abbiamo tratto un spettacolo. Veramente bellissimo. Lei è Miriam Mendoza, una prima ballerina del Balletto Nazionale. Stupenda. E tu danzerai anche con Cristina Cazorla. Giusto. Giusto. Che è una prima ballerina della mia compagnia in questo momento. E sì, questo sarà per il Tuscanicola a Firenze. Che meraviglia. Adesso vi diamo poi tutti gli appuntamenti dati per bene. Allora, c'è la Sergio Bernal Dance Company. Perché tu, avendo la giornata solo 24 ore, hai giustamente deciso... Sai, l'uomo a cui tu hai guardato sempre è Mikhail Baryshnikov. Sì. Quell'uomo che danza... È un idolo. No, è un idolo. È una persona che ha fatto una strada, che ha creato una strada. E tu, giustamente, non sei solo Bernal che danza solo, mettetelo tra virgolette, ma hai deciso per una tua compagnia, hai deciso per portare questa bellezza davvero ovunque nel mondo. Questa è la tua... Quando parlavo di generosità, Sergio, intendevo dire questo. Non è solo lavoro. Lo so. È regalare un sogno a dei ragazzi, è regalare un sogno a chi non danzerà mai. Cioè, questo è anche il tuo impegno. Sì, sì, perché alla fine credo che la mia vita ho avuto o ho vissuto tanta aiuta che da qualcuna forma devo fare lo stesso, no? Devo tornare quella aiuta a tutti. Gioia, ma tu sei solo all'inizio. Eh, non lo so, non lo so, ma credo che lo devo tornare. Hai cento anni davanti a te, però tu dici devo restituire. Sì, come no, assolutamente. E con questa compagnia ho fatto questo progetto che per me è molto importante perché alla fine devo creare la mia strada, la mia propria strada, per conoscermi e per fare quello che mi piace la vita, no? E per quello ho deciso di fare questa compagnia, di creare questo spettacolo e andare avanti con quello. Allora, noi vi diamo due appuntamenti. Vi diamo due appuntamenti. 15, 16 e 17 marzo, l'Esetual, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, dedicato al maestro Ennio Morricone, dove per l'appunto da anni... Io non riesco a vedere persone sedute quando è il momento dell'applauso, in particolare a Sergio Bernal, l'Esetual è uno spettacolo eccezionale, strepitoso, dove se tu non sai danzare, loro danzano per te. Questo è il senso. E poi Firenze, il 23 marzo, che è un sabato, una notte con Sergio Bernal. Questo ti volevo dire, ma secondo te, meglio Michelangelo Buonarroti per fare una scultura che sia identica a te, o chiamiamo Benvenuto Cellini per cesellare l'argento? Non so, dimmi. Devo dire Michelangelo. Adoro Michelangelo. Michelangelo? È meraviglioso lui! Adoro Michelangelo. Ti è stato detto questo? Me l'hanno detto, sì, perché anche ho fatto un spettacolo sulla vita di Rodin, che faccio il Pensatore, che è una scultura. Ma alla fine credo che questa professione ti fa sculpire il tuo corpo con tutto quello che hai vissuto nella tua vita del ballo, no? Certo. Il dolore, la forza, l'anima, tutto quello che devi mettere nel tuo ballo. Tu torni molto su questo. Cioè tu parli di te come una meravigliosa addizione di sentimenti a cui poi si affianca quel bambino che ha iniziato a quattro anni a fare danza. Però c'è l'addizione dei sentimenti. Quella non va mai dimenticata. Assolutamente no. Il grandissimo Roberto Capucci ha creato per Sergio Bernal un costume unico, come te. Devo dire unico, lui è una persona unica, lui è una persona stupenda, veramente. È un esempio di vita. Ancora oggi, con 93 anni, lavora ogni giorno. E quello veramente, per me è algo unico, arrivare alle 23 anni con la passione di fare quello che ti piace la vita. Sì, quello è il senso della vita. Dobbiamo imparare quello. Io ringrazio Daniele Cipriani, lo ringrazio da amica, lo ringrazio da tifosa, lo ringrazio da persona che lo applaude in Italia e nel mondo come l'uomo che ci aiuta a conoscere la danza e ad amarla. Ringrazio Sergio Bernal e sua mamma, la signora Maria, perché ha fatto un figlio d'oro. Non è soltanto Sergio Bernal l'unico al mondo, non è il più bravo di tutti, non è bellissimo perché è stupendo. Lui è bellissimo perché dentro è fuoco che arde. Sergio Bernal. Grazie, 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 Sergio. Grazie a te, mamma. Grazie infinito. Veramente. Allora, voglio dare l'appuntamento annuale dell'Associazione Italiana della lotta alle leucemie dell'Aili. Il 15, 16 e 17 marzo in 4.800 piazze italiane. Siamo sotto Pasqua? Trovate le vostre uova di Pasqua. Poi regalerete tutte le altre uova che voi vorrete. Però ci sono queste uova, latte, fondente, sono buonissime, soprattutto da 55 anni questa associazione italiana di lotta alle leucemie è vicina a tutti i pazienti ematologici e a tutte le loro famiglie. Prendete più informazioni chiamando il numero 06 70 38 60 60 oppure andate su www.ail.it oppure, eccolo qua, fate questo gesto. dovete proprio regalare le uova, sì, le volete mangiare, sì, compratele perché si aiuta l'AIL. Il professor Mandelli ha lottato una vita intera perché tutto questo fosse possibile. Grazie a tutti. Grazie Sergio, grazie anche di essere rimasto. Grazie. Signori, grazie, grazie a Sergio Bernalzi.